L'edilizia può diventare un volano per il paese. Stavano andando avanti così i perraioli, che subito dopo c'erano le chignatte da mettere e il certo sequente. Quindi è una catenata di montaggio sostanzialmente. Tutto si è pongerato così da quel giorno lì. L'edilizia, che rappresenta il 12% del prodotto nazionale italiano con 150 miliardi di euro di produzione ed un milione e duecentomila addetti diretti, sono due mesi che è ferma. Purtroppo oggi la gran parte dei lavoratori si trovano in cassa integrazione. Lo stop dei cantieri di due mesi ha portato ad una perdita di produzione nel settore di 25 miliardi a livello nazionale, 3 miliardi nel Lazio. Il 4 maggio si riparte, ma anche qui si dovranno adottare nuove regole. Queste chiaramente vanno da dei mezzi di protezione, mascherine, guanti, a delle serie di iniziative per evitare i contatti tra le persone. La verifica della temperatura corporea, l'ingresso e l'uscita. Sono tutta una serie di procedure di controllo. Faccio un esempio, anche l'ingresso in cantiere potrebbe essere scaglionato. È chiaro che un minimo di allungamento e ai noi qualche maggiore costo, anche non indifferente, ci potrà essere. Questi costi maggiori si scaricheranno sugli acquirenti che vedranno aumentare il prezzo al metro quadro? La paura è che possano abbassarsi. Studi di settore dicono che ci potrebbe essere una contrazione. Non dipende direttamente dal fatto in sé del Covid, dipende sempre da un rapporto tra offerta e domanda. Dunque tutto pronto per la partenza, anche se sull'uso delle mascherine ancora c'è qualche incertezza. Sembrerebbe che se si lavora a distanze molto ravvicinate servono le famose mascherine marcate FFP2, mentre in altre situazioni più distanziate bastano le mascherine chirurgiche. Non è facilissimo trovarle, soprattutto quelle marcate, ma qui appunto attendiamo disposizione più precisa. Si sta molto più tempo in casa e così l'architettura si modifica in relazione alle nuove esigenze. Per esempio lavorare in smart working in un ambiente confortevole. Immagini quello che sta succedendo intanto a parte dell'architettura con gli elementi esterni di verde come facciate, ma sta migliorando e deve migliorare ancora di più il rapporto tra interno ed esterno, quindi il rapporto tra l'ambiente del soggiorno e i terrazzi, i giardini, i balconi. Mangiare su un terrazzo o avere un terrazzo abitabile non è necessariamente più un lusso. a Napoli.